Eeeh what's up a tutti ciurma e benvenuti da giocherino in questa nuovissima reaction ebbene ragazzi è stato pubblicato tipo 3-4 giorni fa se non erro il nuovo trailer di lancio del nuovo episodio ragazzi di The Dark Pictures Anthology sarebbe a dire Little Hope quindi il secondo episodio tra virgolette di questa antologia a cui ha dato inizio Supermassive Games quindi comunque i produttori ragazzi di sviluppatori stessi di Until Dawn abbiamo portato infatti qua sul canale come serie grazie anche al vostro contributo ragazzi io le cose non me le scordo appunto Man of Medan il primo episodio diciamo la prima storia che è stata pubblicata di questa antologia e che cosa ne avevo pensato ragazzi di Man of Medan non mi era dispiaciuto l'idea ci sta l'idea è figa secondo me ragazzi di pubblicare diverse storie nello stesso stile però forse questo può essere anche un piccolo difetto nel senso che comunque Until Dawn ragazzi secondo me come esperienza videoludica assolutamente unica nel suo genere certo i dialoghi certi momenti ragazzi sono veramente molto cringe molto imbarazzanti però un pochettino ricordano l'atmosfera tipica ragazzi dei film horror americani in cui succedono le cose più assurde quindi diciamo che anche quel cringe ci può stare ma è un'esperienza videoludica assolutamente da fare secondo me horror a scelte in terza persona si impersonano diversi personaggi anche le nostre paure a livello psicologico influenzano insomma le cose presenti nel gioco cioè Until Dawn ragazzi secondo me è un gioco con i controcazzi e ci era piaciuto veramente tanto anche come serie e quindi non avevo potuto non cominciare anche a seguire questa antologia per questo che ho deciso di portare Men of Medan sul canale la serie ci è piaciuta ma appunto come stavo dicendo poc'anzi questa suddivisione ragazzi delle storie può rendere il tutto forse un pochettino troppo frettoloso ecco nello svolgimento della trama magari della storia quindi è figo ma non troppo per cui probabilmente anche magari non lo so la storia di Men of Medan non era magari tutto sto granché può essere che magari i prossimi episodi prossimi capitoli le prossime storie possano acchiapparci di più è per questo ragazzi che oggi vi porto con grande interesse questa reaction al trailer finalmente di Little Hope quindi il secondo capitolo la seconda storia per cui non perdiamo più tempo sono molto impaziente e andiamo a guardare insieme questo trailer Peggy 18 ovviamente Peggy 18 Salve Salve Hai superato in denne Men of Medan? Ah Medan Dunque avrai scoperto che la leggenda cela un fondo di verità Ora vorrei mostrarti qualcosa Il titolo può essere fuorviante ma sono certo che non ci sia nulla da temere Comunque la storia di Little Hope è ambientata in un luogo dal passato oscuro Uno dei numerosi villaggi in cui nel 1692 serpeggiava il timore della stregoneria Un luogo in cui gli abitanti si denunciavano a vicenda E come nella famigerata cittadina di Salem Si improvvisavano cacciatori di streghe per impartire crudeli condanne Così tante vittime Resta da chiarire se gli accusati fossero in effetti sodali del demonio O se piuttosto non fossero i persecutori a essere manipolati da un'oscura presenza Unita nella grazia di Dio Little Hope prevarrà O forse la verità è un'altra ancora Credo che qualcuno lo scoprirà Del resto non hai scelta Se vuoi sopravvivere e proteggere chi ti è accanto E avrai modo di appurare che questo immenso dolore Questa indicibile serie di crudeltà Lascia tracce profonde Fino a creare ripercussioni Ci sono sempre delle ripercussioni Mi gusta A presto mi auguro Magari a Little Hope o magari altrove chissà È inevitabile Wow 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 Allora pure sto piccolo dettaglio Perché Little Hope significa tradotto ragazzi Piccola speranza E qui a fine video c'era scritto abbandona la speranza Data di uscita purtroppo non specificata ragazzi Temo a causa di questa benedetta pandemia in cui siamo E quindi c'è scritto estate 2020 Sono stati un pochettino vaghi Che dire signore e signori Che dire Mi è piaciuto Mi è piaciuto Allora c'era piaciuto ragazzi già nel primo capitolo Il fatto che ci sia questo narratore Che quindi ci sia questo personaggio esterno Alle storie che in qualche modo Si intrufola in mezzo alla narrazione Per rendere il tutto un pochettino più Piccante diciamo così E quindi il fatto che ci sia il narratore qui ragazzi Che ci parla e ci introduce In maniera così Sottile direi Che ci introduce appunto a questo nuovo capitolo A questa nuova storia con questo incredibile ragazzi carisma Ha funzionato Ha funzionato alla grande secondo me in questo trailer È stato figo E vi dirò di più ragazzi Mi sembra estremamente interessante La storia che raccontano Perché ovviamente tra l'altro ragazzi Sono storie vere Quindi storie prese comunque da leggende Miti o anche Fatti realmente accaduti ovviamente E quindi in questo caso ragazzi Si affronta l'argomento della stregoneria Che purtroppo ha caratterizzato La storia dell'uomo Con le sue atrocità E quindi già sta cosa ragazzi Mi acchiappa Anche perché tra l'altro Non ci saranno momenti Solo di storia presente Ma anche di storia passata Quindi storia appunto Che riguarda l'anno Come ha detto se non sbaglio 1692 Quindi quasi intorno al 1700 E ci saranno stralci di storia Ragazzi che riguardano anche il passato E questa cosa Mi intriga veramente tantissimo Perché appunto abbiamo visto ragazzi I personaggi comunque Con abiti tipo del 1700 eccetera Quindi significa proprio Che vivremo momenti Anche della storia passata E questa cosa a me piace Piace veramente tantissimo E in più quindi a quanto pare Si andranno ad intrecciare Con i momenti della storia presente Quindi questo è successo Comunque anche in Man of Medan A quanto pare Ne sbagliavo la pronuncia In quanto comunque anche lì Ci hanno fatto vedere Dei flashback Quindi ci hanno fatto vivere Dei momenti della storia passata Ma il fatto che ragazzi La storia in questione In questo capitolo Sia ancora più antica Mi acchiappa Personalmente parlando Mi acchiappa ancora di più Perché più si va indietro ragazzi Più a me la storia piace Interessa Incuriosisce Più che altro Perché comunque sono tempi Più lontani Da noi E quindi a me personalmente Acchiappano veramente Molto E quindi questo Secondo capitolo È probabile che Con la sottoscritta Potrebbe avere Un po' più di Successo Un po' più di Apprezzamento E poi il fatto Ragazzi Che riguarda appunto La stregoneria E che comunque Ci sia A quanto pare Sempre comunque Un elemento Di sovranaturale Può funzionare Può funzionare Secondo me Quindi Siamo in dubbio Su quando sarà L'uscita E non so Se è già stato Stabilito Un prezzo Perché comunque Men of Medan Ragazzi All'uscita Costava 30 euro Quindi Non era Manco sto Gran prezzo Esagerato E proibitivo Che non ti permette Di comprarlo A lancio Quindi io mi auguro Che il prezzo Rimanga lo stesso Dovrebbe Comunque Insomma Non mi spiegherei Un aumento di prezzo Comunque Rispetto al primo Quindi Se mi state per chiedere Ragazzi Lo giocherai All'uscita Intanto comunque Vediamo ragazzi Di aspettare Che ci dicano Quando appunto Questo episodio Sarà pubblicato In ogni caso Se E ripeto Se Il prezzo Dovesse rimanere Appunto Quello ragazzi Del primo capitolo Quindi dovesse rimanere 30 euro Vi dico quasi sicuramente Che penso Che lo porterò All'uscita Perché appunto Il costo Non sarebbe Ragazzi Poi tanto proibitivo Per cui Sì Dovrei Riuscire A giocarlo Al lancio Vediamo Quando ragazzi Lo pubblicheranno Io mi auguro Che comunque Per quando arriverà Quel momento Potranno distribuire Anche copie fisiche Perché sapete Che purtroppo ragazzi Io non sono tanto Per il digitale E quindi Preferisco la copia fisica Del gioco Quindi Se per allora Dovessero distribuire Copie fisiche Ragazzi Vi assicuro Che lo giocherò Al lancio Per cui Non vedo l'ora Perché questo trailer Ha acceso Veramente Tantissimo La mia curiosità La mia curiosità E la mia attenzione Fatemi ovviamente Sapere ragazzi Qua sotto nei commenti Voi Cosa avete pensato Di questo trailer Quali sono state Le vostre impressioni Le aspetto Veramente Con impazienza Quindi questa reaction Termina qui Grazie a tutti Un bacione Un abbraccio A tutti ragazzi Da giocherina Ciao Ciao